Ciao a tutti fringuelli, oggi parliamo dei gruppi Shimano Sora e del gruppo Shimano Tiagra e in particolare delle loro differenze. Quando si parla di gruppi non c'è paragone, Shimano è nettamente una spanna sopra a tutte le altre. Sia il gruppo Tiagra che il gruppo Sora di Shimano risiedono entrambi nella gamma Shimano Entry Level. Generalmente il gruppo Sora lo troviamo su biciclette da strada di fascia bassa ed è un gruppo a 9 velocità, disponibile sia con guarnitura standard o tripla. Il Tiagra invece è un piccolo passo in più verso la perfezione, offre già una velocità in più, quindi da 9 passiamo a 10 velocità ed è molto più simile al 105 di quanto non lo sia il gruppo Sora, però comunque rimane un gruppo di fascia medio-bassa. Un aspetto molto importante che contraddistingue nettamente il gruppo Tiagra dal gruppo Sora è che da quest'anno il gruppo Tiagra è dotato di freni con leve idrauliche, rendendolo ancora più simile al gruppo 105. In effetti anche il gruppo Shimano Sora ha beneficiato di questi aggiornamenti, se noi infatti andiamo a vedere il design di tutto l'intero gruppo dagli anni passati ad oggi vediamo una finitura molto più accurata di tutto il sistema del gruppo Sora, ma anche il cablaggio è un cablaggio molto più ricercato per garantire che i cavi siano sempre tenuti in ordine, ma anche la guarnitura adesso ha 4 bracci che lo rende paragonabile come disegno quantomeno al gruppo 105. Ad essere onesti, anche se il gruppo Shimano Sora è stato aggiornato più volte negli anni, ci sono ancora alcune caratteristiche che lo contraddistinguono nettamente dai gruppi superiori, come ad esempio la cassetta Pignoni a 9 velocità e soprattutto il peso dei suoi componenti è nettamente superiore rispetto alle versioni premium. Tuttavia non vuol dire che il gruppo Shimano Sora non possa essere consigliato a tutti coloro che iniziano per la prima volta ad andare in bicicletta. è un gruppo ormai molto affidabile, anche se più pesante, ma è comunque molto ma molto economico. Così come il gruppo Shimano Sora, anche il gruppo Tiagra si è evoluto moltissimo negli ultimi anni, avvicinandolo ancora di più al gruppo 105. Anche se le sue prestazioni complessive su strada sono ancora inferiori al gruppo 105, dobbiamo dire che il gruppo Tiagra, da quando è stata introdotta la decima velocità, è diventata un'opzione di gruppo molto popolare tra i ciclisti che iniziano ad avvicinarsi al ciclismo e magari decidono di non comprare il gruppo Shimano Sora. Se le differenze tra 105 e Sora sono molto ben visibili, si assottigliano tra 105 e Tiagra, anche perché utilizzano la stessa guarnitura a quattro bracci ed hanno entrambi i cavi del cambio e dei freni nascosti. Il sostanziale limite del gruppo Tiagra e che lo contraddistingue da tutti gli altri gruppi superiori sono sicuramente le 10 velocità. Questo è un limite, ma come sappiamo Shimano non vede questo gruppo come un gruppo competitivo e lo dimostra il fatto che non è presente la guarnitura 5339. Il Tiagra infatti lo si può trovare sia con la Compact 5236-5034 oppure con la Tripla 5039-30. Come vedete insomma ci sono molte opzioni di acquisto. In definitiva questi due gruppi non si discostano molto l'uno dall'altro, ma devo dire che i comandi del gruppo Sora, avendolo utilizzato per molti anni, sono leggermente ingombranti, mentre i comandi del gruppo Tiagra sono un'opzione sicuramente migliore e più rifinita. In particolare con il gruppo Tiagra ci si avvicina nettamente al gruppo 105 di casa Shimano, per quanto riguarda addirittura anche gli innesti delle marce. I cambi di marce infatti sono molto più lisci, molto più omogenee e le prestazioni sono nettamente migliori per quanto riguarda la cambiata rispetto al gruppo Shimano Sora. Insomma il gruppo Shimano Tiagra è sicuramente un'opzione migliore per tutti coloro che vogliono un cambio entry level più leggero e più preciso nella cambiata. Se invece si cerca semplicemente un gruppo per iniziare, non sapendo poi se questa sarà la nostra passione e non vogliamo spendere molti soldi ma vogliamo comunque un gruppo affidabile, il mio consiglio allora è quello di scegliere il gruppo Shimano Sora. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi due gruppi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao! Ciao!